si guarda una cosa ma scusi non volevo ma cosa ha fatto mi perdoni mi scusi grazie luca ha vinto per i quattro mesi e non sto toccato ho toccato solo il manichino con la mano disinfettata ma non è che ho toccato ma non ho toccato niente ma non mi perdoni ma non ho fatto niente ai perdoni c'è non può cacciarmi perché non ho fatto niente no e cosa fa la faccia scocciata c'è non ha fatto niente di perdoni ci ha toccato un attimo il manichino ma sono le mani disinfettate non è che ho infettato il negozio perché miseria ma non sto disturbando nessuno mi stava facendo i cavoli miei e lei che si sta incavolando e sta no mi scusi non è colpa mia un messaggio ma è un messaggio ma è un messaggio che mi è arrivato non l'ho fatto apposta ma mi scusi ma porco giuda ma ho fatto niente ragazzi si si tutto bene ragazzi non ho fatto niente ragazzi Grazie a tutti.